...di scuole nuove e oggi mi sembra di aver letto in uno dei tanti quotidiani che di tanto in tanto diamo una breve lettura che il governo ha finanziato un bel po' di milioni di euro per ricostruire scuole nuove perché le scuole che ci sono in Italia sono fatiscenti. Noi abbiamo riparato quelli che avevamo, il turno pomeridiano i bambini non lo fanno più, lo fanno di mattina l'attività didattica, grazie a Dio continueremo ad andare avanti per quelle che sono le soluzioni scolastiche, certamente abbiamo quello che è il desiderio della costruzione di una scuola nuova che c'è un progetto in atto e che porteremo al finanziamento grazie ai buoni rapporti con il governo. Abbiamo bisogno della defiscalizzazione del territorio, qui a Lampedusa effettivamente paghiamo tutto di più di quello che paga l'Italia, noi siamo Italia e pertanto vogliamo essere rispettati come italiani e questo lo grideremo come l'abbiamo già gridato al governo. Abbiamo naturalmente bisogno di quella che è la soluzione definitiva che è all'ordine del giorno del calo della tassa dei rifiuti solidi urbani che molti cittadini si stanno lamentando in queste ultime giornate con l'arrivo di molte cartelle pazze, ma per poter fare questo dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Il costo della spazzatura costa al comune di Lampedusa 2.750.000, 1.050.000 viene dato al governo regionale. Noi costruiremo una struttura per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, un impianto che già esiste in altre realtà, che calerà il costo del 30%, economizzeremo poi su quella che è la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti, nel contempo vediamo di attivare tutta una serie di controlli affinché tutti pagano e pertanto non c'è il furbo che non paga e carica sul cittadino onesto e a Lampedusa di cittadini onesti ce ne sono tanti e da lì poi la questione idrica per abbassare anche la bolletta e da lì poi tutte le altre soluzioni che un'amministrazione in cinque anni, se c'è l'impegno, se c'è l'onestà, se c'è la perseveranza e se c'è la collaborazione di tutti e non certamente le strumentalizzazioni politiche si possono ottenere con grande tranquillità. Io oggi dico ai tanti Lampedusa che sono scesi in piazza per protestare, per dire no a quella che è la realizzazione del CIE, un CIE che già esiste e che tutti siamo consapevoli che esiste. Qualcuno ancora parla di CIE o non CIE, il CIE il governo nel territorio l'ha fatto, noi ci batteremo non in piazza, non con le proteste, non con i manganelli, non con situazioni discutibili di scontro con le forze dell'ordine, noi ci batteremo lì a Roma per convincere che l'idea CIE a Lampedusa, convincere al governo è un'idea sbagliata, ma siamo aperti con grande tranquillità nel dialogo, nel capire quale sono le esigenze di questo governo, che è un governo amico. Attualmente abbiamo due strutture, una è CIE ed è incontrata in Briacola, una è centro di soccorso e prima accoglienza che è a capo ponente. Il sindaco di Lampedusa vuole creare solo ed esclusivamente una struttura. ha chiesto la chiusura immediata di quella di in Briacola, affinché quella struttura che è vicina al territorio e al centro abitato, che attorno a quella struttura vivivano tante famiglie che ormai non hanno più la serenità, perché un CIE significa un carcere a cielo aperto, dove succede di tutto e di più e l'abbiamo visto, i 15 tentati suicidi, abbiamo visto il fuoco appiccato con il rischio che 400 immigrati, se non era per le forze dell'ordine, prendevano fuoco e pertanto la strage sicura, il sindaco vuole allontanare il più possibile questo fenomeno epocale dell'immigrazione clandestina in un territorio che è capoponente, che non abbiamo mai avuto, che è la base Loran. Qualcuno si scandalizza di questo, ma cosa c'è da scandalizzare? Quel territorio era la base degli americani che per diversi anni l'hanno avuta e hanno fatto tutto quello che volevano, successivamente poi la marina se l'è presa per diversi anni ai tempi del comandante Niosi, successivamente la marina non aveva i soldi per poterla portare avanti e l'hanno chiusa e abbandonata, oggi può nascere quella struttura di accoglienza che ho definito la cittadella dell'accoglienza verso l'immigrato, che non è un CIE, ma è un centro di soccorso e prima accoglienza, dove poter far vivere bene nella temporaneità, cioè le 48 o 78 ore, gli immigrati che giungono dai barconi per evitare che li facciamo annegare, per evitare di essere accusati, di essere razzisti o razzisti, li accogliamo, li salviamo con gli eventi SAR e poi li portiamo a Capoponente. A Capoponente nascerà una struttura dove ci saranno non militari, ma tante di quelle guardie giurate, questa è l'idea del sindaco, che accanto alle forze dell'ordine che servono, ma non certamente mille, ma un centinaio, accanto alle forze di polizia, la scientifica, che operano e che già operavano, e accanto a quella struttura, una struttura sanitaria dove, lo dico con grande tranquillità, non disturbano quelle che sono le attività sanitarie dei cittadini, che già hanno tante di quelle sofferenze e che spesse volte si vedono passare davanti l'immigrato perché ha la necessità, perché c'è l'emergenza e aspettando quella che è l'assistenza sanitaria che il cittadino o l'anziano effettivamente può avere immediatamente. Queste sono le idee del sindaco. Noi non vogliamo creare due strutture, noi non vogliamo creare un megacarcere, noi vogliamo creare una struttura sicura dove non accadono delle situazioni che già abbiamo sperimentato, dove c'è la consapevolezza dell'immigrato che arriva sul territorio per un breve periodo e poi se ne deve andare, perché il peso del fenomeno epocale dell'immigrazione clandestina, e questo lo dico, al governo nazionale, regionale, a chi ci ascolta, grazie a libera espressione, non può essere caricato solo al popolo di Lampedusa ed un'isola di 20 km quadrati che nasce a vocazione turistica e che noi sinceramente vogliamo crescere, vivere e vogliamo dare la possibilità ai nostri figli di avere un futuro migliore grazie al turismo e certamente non perché dobbiamo essere assistiti da un governo che è prima di destra e poi di sinistra, perché questo è un popolo che è abituato a lavorare, questo è un popolo che ha ottenuto sempre tutto nella piena legalità e con il sudore della fronte. Se ci sono politici che condividono questo pensiero del sindaco, che poi a mio avviso è il pensiero di tanti cittadini di Lampedusa che vogliono ritornare in quella serenità sperimentata, e allora va bene, stiamo accanto, andiamo avanti, seguitemi o addirittura vediamo un pochettino di poter sederci tutti insieme attorno al tavolo per fare il punto della situazione. Se questa disponibilità non c'è, e allora io mi sento il peso politico, morale, sociale, istituzionale di andare avanti da solo, perché sono stato legittimamente eletto sindaco dal popolo e ahimè non portatemi a ragionare in una maniera o a ripensare nel dire forse ho sbagliato di aver dato troppo confidenza ad altri e dovevo ragionare con la mia testa e forse non si arrivava a questo. Io questo ragionamento non lo voglio fare perché di cuore sono buono, per carattere sono molto aperto, quando sbaglio chiedo scusa e mi inginocchio e chiedo perdono, ma nel contempo però dobbiamo tutti capire che oggi non c'è un ragionamento di destra o di sinistra, oggi c'è il bene delle isole di Lampedusa e di Linosa, e il bene di Lampedusa è crescere nel benessere, per crescere nel benessere noi dobbiamo crescere nel turismo, non certamente con il fenomeno epocale dell'immigrazione clandestina che siamo giustamente costretti a discutere, a accogliere perché non ci sono altre strade, perché siamo la meta più vicina, perché siamo la meta sperimentata, perché è giusto che questa gente dopo che affronto un lungo viaggio deve essere salvata e certamente non la possiamo fare a negare in mare.